ok 3 2 1 go ciao ragazzi sono sempre io il boss dei monopattini adesso vi faccio vedere e faccio la prova su strada finalmente con la bestia visto che avevo problemi che saltava la catena strappava la catena se l'ho fatto un tiracatena artigianale poi lo farò ancora meglio comunque quello saldato le piastre insomma va bene adesso devo dire che va niente adesso finalmente ho messo il portatelefono decente almeno vediamo le riprese o almeno cosa riesco a fare e niente adesso in modalità 1 come potete vedere l'indice ok e niente poi vi ricordo anche di iscrivervi ai seguenti canali di youtube accendete la campanella almeno ne vedrete sempre delle belle mie nuove diavolerie mie nuove invenzioni e poi se avete bisogno sapete dove trovarmi su un mondo elettrico italia di facebook che mi raccomando pensate tutto è cominciato da qui che ho fatto il mio primo video con il nightbot g30 o qualcosa del genere bene adesso mi ritrovo con questa invenzione con questo motore gigante spaventoso e niente adesso metto a posto il telefono e niente proviamo insieme poi nei commenti fatemi sapere se vi piace oppure no nilox goped 3600 watt ok trazione a catena mi raccomando trazione a catena ovviamente batteria a litio che si trova qui dentro questo splendido zainetto della rock rider come potete vedere non si vede nulla e comunque ci si possono mettere anche altre cose oltre che alla batteria come potete vedere poi se avete bisogno delle batterie come dico sempre vedete ma c'è la batteria enorme non c'è problema mi fate sapere ok poi un'altra cosa se mi chiedete i preventivi ok io ve lo faccio pure non c'è problema se mi chiedete il preventivo per la batteria io ve li faccio pure però non dite sono cari di qua di là perché non sono cari credetemi ok poi se vi volete fare raffugnare i soldi in rete allora vi dico questo non perché io devo vendere le batterie perché non me ne frega niente anzi io vi faccio un favore mi faccio il favore anche a me perché sono ottime e a parte quello se vedete attenzione perché questo è importante se vedete delle batterie in rete o sui siti cinesi o o quant'altro ok mi raccomando perché dentro alcune batterie magari vi offrono batterie da 30 ampere a 100 euro 200 euro ragazzi non comprate perché sono una fuffa che mi raccomando poi se volete buttare i soldi non c'è problema ok quindi mi raccomando non vi fate fregare i soldi ok bene ragazzi questo è tutto adesso metto il telefono a posto e provo la bestia finalmente tra parentesi è rimessa a posto bella lì io ve lo dico delle batterie perché ripeto come vi ho fatto vedere sono super mega valide ok e sono batterie che hanno le celle sanio che comunque sono buone adesso io ripeto non so cosa sto inquadrando è quindi per i fighi dei ah ma che video di cacca di qua di là è vero ma io faccio tutto tutto con il telefono ok quindi chi mi conosce sa che io faccio tutto con il telefono non c'ho la gopro perché non ho il computer e sono proprio come dire negato per quanto riguarda computer ok quindi guardiamo insieme e speriamo di non annoiarvi ok bene dai si parte 3 2 1 via adesso sono la prima modalità è sentirete un po di casino ma è normale perché comunque la trazione a catena ok bene si va fa un breve giro nel parcheggio vediamo se la catena è bella in linea oggi c'è un po di vento mi raccomando fate girare questi video che almeno supportate il canale e non voglio diventare famoso perché non mi interessa però almeno forse c'è qualcuno che apprezza ancora di più quello che faccio è un abbraccio ai nuovi iscritti e mi fa sempre piacere che mi fanno i complimenti anche chi non mi fa i complimenti le voglio bene lo stesso anche perché sicuramente anche una critica ti fa crescere quindi non c'è problema ok bene si parte in strada modalità 1 e vai un'altra cosa per i fighi haters insomma quelli che rompono le balle che dicono ah no ma questo non lo fate non sembra che va forte ma non va va bene va bene pensate quello che volete che mi fa piacere lo stesso io tanto sento lo che ho io ciao ciao si parte prima velocità devo dire che con le piastre saldate è un altro mondo però credetemi che fa paura veramente siccome si accelera un pochino si inferta eh io sono andando in strada sono in strada e quindi wow ha 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 che fuggata ragazzi che fuggata adesso mi fermo un attimo e lo metto in modalità 2 via si parte è un animale è un animale è un animale e io lo provo in strada devo stare attento perché sennò mi vuole anche il telefono c'è un pezzettino di pizza ciclabile guardate la pizza ciclabile ragazzi fa ridere eh eh vabbè dai siamo in Italia vai vediamo un pochino via mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi mamma mia quando decende lo scende lo scende un'astronave fermo un attimino la metto alla terza velocità e questa è spaventosa ragazzi via mamma mia è molto potente ragazzi molto potente e una terza mamma mia andami che roba mamma mia come va mamma mia mamma mia andami mamma mia come va potenza assurda una potenza assurda una potenza assurda mamma mia mamma mia ragazzi è una bestia è una bestia bene ragazzi questo è tutto ovviamente si l'ho provato senza casco e ho fatto un errore madornale e l'ho dimenticato però appunto mettete sempre il casco mi raccomando state sempre attenti e molta prudenza mi raccomando bene ciao ragazzi dai boss dei monopattini ci vediamo presto in giro o comunque se avete bisogno sapete dove trovarmi ciao